I copriguanciali da abbinare, guardate che belli, anche qui si presentano con velluto e cotone. Perfetto per uno stile shabby, provenzale, per arredare la vostra camera da letto in un perfetto stile inconfondibile. Guardate che bello anche il dietro, come è curato nel dettaglio, abbiamo il toile e poi anziché i bottoncini o la classica cerniera o la tasca, abbiamo proprio questi fiocchetti un po' vintage, molto belli. Per me poi il toile de juiz è perfetto, come vi dicevo, nello stile shabby o provenzale. Grazie. Grazie. Grazie.